ciao oggi abbiamo francesco direttamente dalla sardegna è un professionista da carloforte pizzeria all'ancora grande com'è la focaccia micidiale e stupenda cotone e francesco mi credo proprio di sì margherita bucata all'assaggio francesco ragazzi micidiale allora è vero non è una funzione non sono attori e beh è tutto vero guarda quanto è croccante grazie